Un faccia a faccia positivo con il vicepresidente della regione che ha messo sul tavolo le gravi problematiche che stanno investendo il settore dell'agricoltura nella nostra provincia. La gelata ha messo all'angolo soprattutto gli operatori della Valdichiana. In ginocchio la frutticoltura è anche per i vigneti. Le prospettive non sono buone, mobilitate le organizzazioni agricole. Situazione drammatica nella Valdichiana e non solo, purtroppo centinaia di ettari di frutteti ma anche di vigneti e di altre colture sono state letteralmente bruciate da quella che è stata la gelata della settimana scorsa ma anche da quelle precedenti. Quindi a rischio la vita di tante aziende agricole ma anche a rischio il posto di lavoro di tante persone. Nell'incontro di Badia Alpino sono venute fuori altre problematiche, altre criticità che interessano il settore dall'acqua troppo cara, dal nodo, dal mistero delle assicurazioni e soprattutto da come poter arrivare a presentare domande di rimborso sul sito della regione visto che quel sito come quello dei vaccini non funziona o perlomeno presenta numerosi ritardi. Come si può avviare? Intanto è fondamentale il riconoscimento dello stato di calamità che potrà permettere alle aziende di avere speriamo un rimborso, un indennizzo adeguato ma anche uno sgravio contributivo. Questo è quello che la Confagricoltura chiede. Per fare questo è importante che le aziende agricole facciano segnalazione del danno avuto sul sistema di Artea quindi sul sistema della regione toscana.